anche io devo ringraziare il signore per questi giorni trascorti insieme giorni di comunione fraterna ho potuto conoscere i nuovi fratelli ma rivedere anche i fratelli che non vedeva tanto tempo e questa è una vera gioia perché siamo una famiglia e l'amore di dio è quello che ci unisce e possiamo raccontare della fedeltà di dio perché se siamo qui è perché dio è fedele io devo ringraziare il signore per quell'opera profonda che ha compiuto nella mia vita e nel cuore nell'anima del entra solo dio solo dio può cambiare i sentimenti i pensieri io lo ringrazio perché sono nata in una famiglia di fede evangelica e da piccola mi piacevano le storie della bibbia ma vedevo nei miei genitori nella mia mamma quella fede semplice qualunque problema lì si inginocchiava e pregava dio e questo mi ha segnato dentro ma crescendo nell'adolescenza ho confuso la fede con la religione per me era una religione come gli altri erano delle regole e crescendo la mia vita si apriva volevo dirigere io la mia vita volevo scegliere io perché mi sentivo forte ma ci sono cose dove l'uomo non può fare nulla come la tristezza l'ansia per quanto mi sforzassi di dare un senso alla mia vita di essere felice poi alla fine restavo delusa e mi è venuto poi in mente l'esempio dei miei genitori ho permesso al signore di entrare di togliere quell'ostacolo che era il peccato io non me ne rendevo conto perché mi sembrava una vita normale ma lontana dal signore c'è un ostacolo enorme quando il signore ha tolto quel peso dal mio cuore ho realizzato che la vera vita con dio e da allora posso dire che il signore non mi ha mai lasciato è sempre stato con me nei momenti felici ma soprattutto nei momenti tristi perché dio è quello che dà la forza giorno dopo giorno perché il cammino noi non lo vediamo fino alla fine noi vediamo quello che ci capita giorno dopo giorno e certe volte non capiamo perché ma avere il signore la cosa più bella ci porta avanti ci dà la forza ci dà la forza e di andare in cielo che è la nostra meta per questo lo voglio lodare e ringraziare da ora in eterno gloria al signore a me grazie sorella cusumano vogliamo ora passare alla predicazione della parola di dio fratello cusumano vieni puri dio ti benedica apriamo subito la parola del signore nel vangelo secondo matteo vangelo secondo matteo capitolo 2 leggiamo i versetti 7 e 8 poi andremo al versetto 16 ripeto matteo capitolo 2 versetti 7 e 8 allora erode chiamati di nascosto i magi si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e mandandoli a bettelem disse loro andate e domandate diligentemente del fanciullo e quando lo avrete trovato fatemelo sapere affinché io pure venga ad adorarlo versetto 16 allora erode vedutosi ingannato dai magi si adirò fortemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in bettelem e in tutto il suo territorio dall'età di due anni in giù secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi dietro la meticolosità di erode noi identifichiamo paura perché vedeva a rischio il suo trono ma possiamo anche intravedere l'inizio di quel declino anche patologico che segnerà gli ultimi anni della sua vita nel testi che abbiamo letto ritorna in ogni versetto un avverbio in italiano diligentemente un altro ancora esattamente e dunque egli erode raccomanda ai magi di domandare diligentemente e poi i magi quello fecero e allorquando scopre di essere stato ingannato erode visto che diligentemente esattamente meticolosamente se era informato riguardo il signore provvide a quella che viene chiamata impropriamente la strage degli innocenti impropriamente perché non fu una strage bettelemme era un piccolo centro questo non toglie nulla all'orrore dell'omicidio dell'infanticidio fosse anche di un solo bambino nel male fu diligente erode nella nella cattiveria nella all'albeggiare della sua follia fu accurato ebbene in breve perché davvero in breve sarà nel bene la scrittura ci indica quanto invece noi cristiani dobbiamo essere accurati meticolosi dei diligenti se un oscuro re del vicino oriente antico di duemila anni fa per meri interessi personali e di potere poter essere accurato e attento quanto più noi cristiani che siamo sacerdoti e re degli di altissimo dobbiamo essere accurati meticolosi diligenti attenti nella nostra vocazione perché erroneamente si si accomuna amore a superficialità grazie ad approssimazione è vero che l'amore copre moltitudine di peccati ma è vero che l'amore arde e l'amore spinge a dare il meglio di se stessi per gli altri e innanzitutto per il signore ama dio tuo con tutta la tua mente la tua forza ama il prossimo tuo come te stesso diligenza attenzione non sicuramente una sorta di mania ma comunque la cura attenta della la cura attenta del giardiniere che è un artista dietro i meravigliosi giardini delle antiche famiglie patrizie vi erano dei giardinieri artisti addirittura ancora prima degli architetti e ciò che ne veniva veniva fuori era una un piacere per l'occhio ma dietro c'era tanto lavoro così noi cristiani dobbiamo mostrare al mondo non le architetture le prospettive di giardini affascinanti ma la bellezza della grazia del signore dietro non vi può essere né superficialità né approssimazione bene dove troviamo dunque la stessa parola nel nuovo testamento tradotta diligenza curatezza e così via innanzitutto nel vangelo secondo luca esattamente in apertura leggo io luca 1 3 e parso bene anche a me scriveva luca dopo essermi accuratamente diligentemente informato di ogni cosa dall'origine di scrivertene per te l'accuratezza nella ricerca di ciò che riguarda il signore luca si informò prima di scrivere il vangelo quanto più noi ci dobbiamo informare prima di annunciare il vangelo siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a quanti chiedono conto della speranza che in voi la pienezza dello spirito santo dicevamo la grazia non è approssimazione estemporanea è la guida di dio non la conoscenza della volontà di dio come può il signore guidarci a dare la parola giusta se non conosciamo quella parola come possiamo rendere ragione della speranza che è in noi se non conosciamo la fonte della speranza con accuratezza facciamo attenzione ad un secondo ostacolo un conto è conoscere la cornice un altro conto è conoscere il dipinto un conto è conoscere tutto ciò che ruota l'enciclopedia che ruota attorno alle scritture in termini di storia di pensiero in termini di religioni in termini di geografia un altro conto è conoscere il dipinto la parola del Signore vi faccio una domanda che è semplice non banale ma che è comunissima quanto e quando leggiamo la parola di Dio e come meditiamo riflettiamo per usare termine magari più vicino a noi studiamo la parola di Dio dopo essermi accuratamente informato fin dalle origini e nel principio le origini nel principio la parola era è lo stesso termine principio l'accuratezza nella devozione al Signore Gesù che comporta l'accuratezza nell'esposizione del Vangelo così in Atti capitolo 18 versetto 25 è scritto egli si parla di Apollo era stato ammaestrato nella via del Signore ed essendo fervente di spirito parlava e insegnava accuratamente diligentemente le cose relative al Signore Gesù benché avesse un limite conosceva soltanto il battesimo di Giovanni quella diligenza impiegata nello studio della parola del Signore nella meditazione della parola di Dio non nella nel riscaldamento si può dire nella preparazione dei cibi precotti l'ha detto il pastore l'ho sentito sul video e quindi lo ripeto automaticamente è come se prendessimo un alimento surgelato e poi messo lì siamo tutti bravi a fare i cuochi così io neanche quello però siamo tutti bravi ma Luca si è informato accuratamente fin dall'origine e questa è la rivelazione scritta di Dio ma quella stessa accuratezza poi viene dimostrata da Apollo nell'esposizione del Vangelo l'annuncio del Vangelo non è mai impostato e formale ma non è mai neanche banale fateci caso rischiamo di ripetere frasi fatte Dio ti ama Gesù ti salva la grazia è completamento ma parlare del Signore non vuol dire mettere insieme delle frasi fatte vuol dire attingere alla prima ricerca accurata nella parola del Signore e nella guida del Signore attingendo tirar fuori ciò che serve in quel momento quando andiamo in farmacia quando andiamo in farmacia di solito andiamo a meno che si possa fare con una ricetta una prescrizione medica dall'altra parte del bancone c'è una persona competente che riesce innanzitutto competente in filologia e sicuramente in codicologia cioè riesce a capire i caratteri perché credo che per essere laureato in medicina devi scrivere male che se no la laurea non te la danno tal che ci sono molti medici che proprio si esercitano per scrivere male questa va su internet giusto? va beh è andata quindi il farmacista deve decifrare dopo aver decifrato beato lui e lì non so se a voi capita io mi chiedo faccio sempre la stessa domanda da una vita speriamo che capisca bene e non mi dia altro va di là in un dove ci sono i grandi contenitori trova il farmaco e lo porta se il farmaco non c'è dirà dobbiamo richiederlo passi nel pomeriggio ripassi domani funziona immagino così allora immaginate noi stessi come dei farmacisti viene qualcuno mandato dal medico lo spirito del signore lo ha mosso ha fatto sì che circostanze avvenimenti si incrociassero affinché questa persona incontrasse noi o noi incontrassimo questa persona come meglio credete e riconosciamo in questa persona un ammalato lo capiamo perché è la stessa malattia che avevamo noi sono gli stessi sintomi e riconosciamo anche dentro di noi che non è casuale l'incontro viene a noi con una sorta di prescrizione se volete e noi dobbiamo dare il farmaco giusto il farmaco giusto è l'annuncio della salvezza siamo d'accordo ma converrete anche che non tutti siamo uguali non tutti versano nelle stesse condizioni abbiamo bisogno in quello di dare perciò quella parte della parola del signore che gli è che gli serve e in questo abbiamo bisogno non della guida del medico ma della guida dello spirito santo ma se non abbiamo alle spalle il deposito cosa prenderemo se non conosciamo il vangelo se quello che sappiamo sono le frasi fatte pentecostali veteran moderne ma noi ripetiamo quello che altri ci hanno dato non parliamo del nostro non è ciò che il signore ci ha dato ma tutti scusate ora la battuta ma tutti abbiamo una zia similmedico quella zia che è in tutte le famiglie italiane che chiede sempre a tutti come stai e alla risposta oh il dolore prendi e indica sempre farmaci perché ha funzionato con me perché a me tu non ti preoccupare se vuoi ce l'ho di là te lo do io il panico perché non devi offendere la zia ma tutto vorrei fare tranne che farmi avvelenare da una mia consanguinea ma anche da chi non è consanguineo a dire la verità ha funzionato con me e però ha un piccolo problema non è medico e francamente è necessaria la guida dello spirito santo per trovare quella parte della parola del signore che è adatta questa si chiama nella bibbia anche questa si chiama nella bibbia guida dello spirito santo e si chiama profezia per questo noi abbiamo per esperienza e siamo stati preceduti ma preghiamo il signore che fin quando gesù ritornerà anche dopo eminente donne fratelli sorelle in cristo del tutto semplici edotte nella parola di dio che hanno portato al signore decine di persone e ci siamo chiesti ma come fa domanda oziosa perché non fa lui non fa lei fa il signore ma lui lei hanno il deposito e hanno la guida dello spirito santo si va di là si porta e si dà ma c'è l'evenenza nella quale non c'è ahimè e se non c'è che si fa se non c'è il farmaco dico che si fa ripassi è triste dire e poi ne parliamo un'altra volta di solito il contrario e il non credente che dice e il governatore che dice a Paolo ne parliamo un'altra volta Paolo non ha mai detto ne riparliamo un'altra volta e l'uditorio ad Atene che salza e afferma vabbè visto che si parla di resurrezione dei morti ne parliamo un'altra volta noi ce ne andiamo non è Paolo che interrompe la predica dinanzi ai musilunghi accuratezza meticolosità nell'esposizione della parola del signore Apolo aveva un limite non da poco era battezzato del battesimo del battista non gli era chiaro tutta la sana dottrina ma era un uomo semplice era fervente di spirito perché Gesù l'aveva salvato tutti abbiamo limiti magari non di quel genere ce li abbiamo tutti ma i limiti non giustificano l'approssimazione i limiti ci sono ma noi abbiamo un signore che va oltre i nostri limiti l'accuratezza anche anche nella santificazione quotidiana questa parola così così interessante bella le ritroviamo in Efesini al capitolo 5 versetto 15 laddove Paolo scrive afferma guardate dunque con diligenza con accuratezza come vi conducete non come camminate non da stolti ma da savi condursi traduce letteralmente camminare perché la vita è un cammino da un punto a un altro e la vita cristiana è un cammino verso il signore ma si può camminare in diverso modo a Ferrara in Emilia è notorio ogni volta che vado noto le piste ciclabili in città che hanno una differenza con le piste ciclabili a Roma la differenza sta nella collaborazione con gli automobilisti a Roma ci si affida all'amore degli automobilisti i quali tendenzialmente tendono a investire i ciclisti perché le piste ciclabili sono ricavate dalla carreggiata così io per un periodo sono andato in bici poco da casa in via De Bruzzi poi ho detto mi son detto ma perché debbo rischiare la vita perché tanto se non mi uccide l'automobilista mi ammazza lo smog c'è modo e modo di camminare ma c'è un modo di camminare sicuro c'è un modo di camminare insicuro indeciso pericoloso si può vivere in tante maniere un cristiano vive con attenzione meticolosità guardate attentamente come vivete la vostra vita fate attenzione siate accurati non superficiali non raffazzonati non vi nascondete direto con lo scudo di carta Dio è buono è uno scudo di carta in quel caso non pensate che la grazia serva semplicemente ad appiattire esattamente il contrario la grazia trasforma eleva con impegno infine l'ultima citazione nella prima lettera di Paolo ai tessalonicesi al capitolo 5 versetto 2 perché voi sapete voi sapete molto bene non avete bisogno il Signore vivrà scusate il Signore verrà come viene un ladro nella notte non avete bisogno che io vi ne scriva perché sapete molto bene il Signore verrà come viene un ladro nella notte allora quando questo accadrà voi fratelli non siete nelle tenebre aspettate e nel testo si parla anche qui dell'accuratezza nel ritorno del Signore Gesù ritornerà è vero e quando il Signore verrà quando il Signore verrà saremo dobbiamo essere pronti e quella preparazione deve essere accurata voi stessi sapete molto bene voi stessi sapete accuratamente che il giorno del Signore verrà ne parliamo poco del giorno del Signore parliamo poco del ritorno di Gesù ma noi lo sappiamo accuratamente è una uno degli aspetti degli insegnamenti della Bibbia che non va dimenticato quando si abbassa l'orizzonte del regno di Dio sempre di più sulla terra quando si appiattisce si allontana il ritorno del Signore in realtà il Signore ci ha salvato non per la terra ma per il cielo non per l'umiliazione ma per la glorificazione e quando io avrò preparato un luogo verrò e Gesù non dice ridurrò la terra o porterò la terra ad essere un Edwin ma Gesù dice io vi porterò presso di me non è questa casa vostra non è questa casa vostra casa nostra è un'altra l'accuratezza lo sappiamo accuratamente lo sappiamo la parola che abbiamo inseguito nel Nuovo Testamento esiste nel dizionario italiano sotto la lettera cercate lo si può fare pure subito a dire la verità su motore di ricerca acribia meticolosità è la parola che abbiamo seguito nel Nuovo Testamento in in Erode fu una meticolosità mossa da pessimi sentimenti da cattive passioni che lo condusse ad azioni immorali in noi questa accuratezza che è sì semplicità ma è anche amore ebbene in noi questa accuratezza nella nello studio della parola del Signore deve essere profusa poi nell'annuncio del Vangelo nella vita quotidiana nella santificazione nel non dimenticare che Gesù ritorna amore